Allora ragazzi eccoci buonasera a tutti, scusate il ritardo, scusate l'orario ma ogni giovedì c'è questo impegno per carità, tutto è lavoro e tutto è professione però anche molto divertente, molto rilassante, molto twitch appunto con il canale ufficiale Twitch del Milan la trasmissione si chiama sempre Milan, va in onda tutti i giovedì dalle 17 alle 19 per chi vuole seguirci appunto siamo lì, sono lì e naturalmente alla fine della diretta ho raccolto le notizie, le impressioni, le idee e sono qui a confrontarmi con voi abbiamo tante cose di cui parlare oggi, naturalmente di tutte le notizie di giornata, poi potete trovare traccia anche su OneFootball OneFootball sta sostenendo questo canale YouTube in questo periodo, è un prestigioso sito di news italiane, europee e mondiali ha anche un'app OneFootball gratuita che è possibile scaricare, ci sono partite, partite di Coppa di Germania, eventi, situazioni, approfondimenti e quindi l'app gratuita di OneFootball è scaricabile già nella descrizione di questo video le notizie di giornata, poi parliamo di Rizzoli e Gasperini prima parliamo invece di Andrea Conti, parliamo di Zemaili, hai visto mai? e parliamo di Theo Hernandez, poi parliamo di Rizzoli e Gasperini allora intanto devo dire che sono state bellissime le parole di Andrea Conti e anche di Benna Serperini Andrea Conti su Instagram, bellissime parole belle parole, saluta Valparma, in bocca al lupo Andrea parole piene di... le trovate sul profilo Instagram di Andrea Conti parole piene di riconoscenza, parole che chiudono bene i suoi anni al Milan c'è tutto, c'è l'amore per il Milan, c'è il dispiacere che poteva andare meglio però insomma c'è il tono dolce di chi non ha rimpianti bravo, bravo Andrea, un modo splendido per chiudere infatti hanno apprezzato glorie della storia del Milan come Filippo Galli che hanno fatto commenti e saluti di cuore anche Riccardo Montolivo, Ignazio Abate, Manolo Catelli insomma un bellissimo modo di chiudere la parentesi rossonera da parte di Andrea Conti e poi vedremo che cosa accadrà in futuro su Instagram si è palesato anche Ismael Ben Nasser Ismael Ben Nasser che ha postato una foto del suo allenamento di oggi quindi sta riprendendo la riatletizzazione, sta riprendendo a lavorare bene, il fatto che abbia scelto Instagram come piattaforma dimostra che il peggio per quanto riguarda il suo infortunio è passato Isma scrive sono al lavoro, ancora un po' di pazienza arrivo e quindi bello, bene, vuol dire che i giocatori ci tengono a comunicare con i tifosi vuol dire che i giocatori ci tengono a essere dentro questa stagione, dentro quest'annata e vogliono tornare prima possibile quindi anche questo contribuisce al buonissimo momento del Milan Zemaili, di Zemaili volevo dirvi che sono state belle le sue parole Zemaili era un osso, io l'ho sempre vissuto come un osso contro di noi, sempre fatto delle belle partite ricordo la prima del novembre 2008 quando i giornalisti dicevano ma Carlo Ancelotti nella conferenza stampa della vigilia di un Torino-Milan il Milan era nettamente favorito ma c'è Zemaili, beh sì insomma noi abbiamo Pirlo con tutto rispetto preferisco non preoccuparmi di Zemaili invece Zemaili fece una grossa parita e quel Torino-Milan in cui il Toro era nettamente sfavorito finì invece 2-2 era un Toro che poi retrocedette al ritorno vincevamo noi 5-1 ma l'andata grande parita di Zemaili e partita che finì 2-2 quindi un giocatore che ha sempre fatto delle buone cose in Italia ha dichiarato oggi sono sempre stato milanista in Italia non potevo dirlo spero che il Milan vada bene e quindi insomma incartiamo anche questa e poi Teo Hernandez ora noi siamo tutti contenti per il fatto che dopo 15 giorni si siano negativizzati i Rebici e Cruni ci hanno fatto il loro percorso con il Covid sono negativi quindi bene doppia buona notizia ma si è rivelata falsa la positività di Teo Hernandez io voglio tornare nella maniera più lieve possibile ma sentita e doverosa con voi su questo argomento io quando sembrava che fosse negativo Teo Hernandez avevo detto stia zitto chi mette in giro positivo 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 perché sul Covid non si fa bar dello sport sul Covid non si fa chiacchiericcio da calcio mercato Covid è una cosa seria riguarda la salute delle persone e la privacy delle persone quando ci sono i comunicati ufficiali si dice qualcuno di voi mi ha accusato ma no ma tu non puoi dirci di stare zitti ma tu non puoi tenerti solo i comunicati ufficiali sul Covid sì perché poi si scatenano le canee che vanno a fare insulti a Teo e alla fidanzata inopportuni, sgradevoli, inutili da parte di persone che non sanno che sia Teo che la sua fidanzata si sono comportati nel miglior modo possibile e il fatto che fosse falsa la positività di Teo dimostra la linearità del suo comportamento e in ogni caso il Covid non è mai una colpa il Covid fa parte di questo momento tragico del nostro pianeta quindi non è che il calciatore deve essere giudicato come per una giocata se prende o non prende il Covid no bisogna essere seri su questo argomento quindi siamo contenti che la positività di Teo Hernandez sia falsa la prossima volta prima di fare commenti inopportuni prima di fare offensivo i social pensiamoci bene volevo chiudere con Rizzoli e Gasperini allora su Gasperini è molto semplice non voglio mancare di rispetto a nessuno non voglio polemizzare con nessuno mancherebbe altro poi figuratevi io nel mio piccolo non posso polemizzare con un grande allenatore però adesso sentirmi dire anche perché qui c'è il negazionismo sugli squalificati del Milan il negazionismo sui pali del Milan il negazionismo sulla fortuna del Milan il negazionismo su tutto sul fatto anche che giochiamo poco adesso basta ribaltare la realtà Gasperini dice al Milan negli ultimi giorni ha giocato meno di noi il Milan caro Gasperini e bisognerebbe che dentro l'Atalanta visto che c'è un ufficio stampo efficientissimo e ci sono dei gran bei lavoratori dentro l'Atalanta ogni tanto qualcuno però in grado di calmare o di contraddire Gasperini deve esserci perché non è nemmeno Gasperini il re sole pur essendo uno straordinario allenatore il Milan è la squadra che in questa stagione ha giocato più di tutti il Milan ha giocato 28 partite fino ad oggi nessuno ha giocato più del Milan massimo ne sono state giocate 25 da parte delle altre squadre quindi il Milan certamente non può essere accusato di giocare poco o di riposarsi il Milan ha giocato non solo 28 partite ma anche 4 tempi supplementari 2 col Rioave in Europa League 2 col Torino in Coppa Italia e 4 tempi supplementari sono quasi una parita per cui arrivo a dire che il Milan ha giocato con i recuperi 29 partite 4 in più della media qualcuno può dire e vabbè ma le ha giocate l'anno scorso no che non le ha giocate l'anno scorso ricordo a tutti a chi non lo sa e poi parla magari un po' avambera come è iniziato il 2021 del Milan il 2021 del Milan è iniziato con partita il 3 gennaio a Benevento partita il 6 gennaio con la Juve partita il 9 gennaio col Torino campionato partita il 12 gennaio col Torino Coppa Italia quindi sono 4 partite in 9 giorni se Gasperini lamenta di aver giocato 4 partite in 10 giorni ecco sappia che il Milan è andato peggio quindi io capisco che in questo momento va di moda a parlare del Milan perché nel calcio si fiuta l'aria in questo momento si va sul Milan a ruota libera in questo momento chiunque può dire la qualunque sul Milan e quindi la dice anche Gasperini calma naturalmente chiunque e la qualunque non riguarda il disegnatore arbitrale il disegnatore arbitrale che a noi sarebbe tanto piaciuto sentire il giorno dopo Milan-Roma quando ci è stato fischiato un rigore contro per un fallo subito dal nostro difensore ma nessuno ci ha mai dato spiegazioni su Milan-Roma a noi sarebbe piaciuto sentire dal disegnatore arbitrale perché prima di Milan-Lazio che si è stato ammonito per un fallo da niente a Sassuolo mentre immobile per un fallo da espulsione in Nazio Napoli rimasto in campo a noi sarebbe piaciuto sapere dal disegnatore Rizzoli perché è intervenuta la VAR su Tonali a Venemento è stato espulso mentre Cerri su Calulu è intervenuto con lo stesso fallo in Cagliari-Mila non è stato dato neanche fallo a noi sarebbe piaciuto sapere dal disegnatore Rizzoli perché Leao è stato ammonito era diffidato in Milan-Torino per un fallo di simulazione che non aveva commesso anzi è stato ammonito per un fallo che aveva subito a centro campo quindi su tutte queste cose non abbiamo mai avuto spiegazione però si fa Cassazione si fa intervento di scuola su Brahim Diaz in Milan-Torino proprio nel momento in cui è diventato materia ormai all'ordine del giorno quello di fare l'equazione Milan primo tanti rigori e no signori il Milan in suo primo posto se l'è sudato fino adesso se l'è conquistato è un primo posto in discussione è un primo posto che per carità è assolutamente provvisorio ma fino adesso il Milan tra infortuni casi Covid pali squalifiche e ogni tipo di contrarietà e tante partite più di tutti il Milan in suo primo posto se l'è sudato lottato e conquistato per cui se in questo momento c'è qualcuno che fa l'equazione primo posto Milan tanti rigori fa tifo di parte tifo anche un po' becero poco analitico e purtroppo purtroppo un tifo che trova sponda nell'intervento del designatore arbitrale proprio in questo momento sull'episodio di Brian Diaz e Milan Torino mi sarebbe anche piaciuto sapere cosa pensava il designatore arbitrale del rigore che l'arbitro Maresca stava dando a favore del Torino per un fallo subito da Tonali però su questo purtroppo il designatore arbitrale non è intervenuto ciao a tutti